Finalmente è arrivata la nuova funzione di Pokemon Go, ovvero quella dei percorsi, o meglio Roots e lo scopriamo grazie a questo video ufficiale di Pokemon ebbene oggi vediamo come funziona e soprattutto come poter andare a muoverci con questi percorsi stando semplicemente a casa nostra la prima parte che vogliamo mostrarti è proprio il funzionamento della nuova funzione Roots di Pokemon Go come prima cosa possiamo vedere che se clicchiamo qui in basso e poi apparirà questa nuova funzione quindi chiamata Root questa funzione Root ci consentirà quindi di poter vedere tutti quanti i percorsi che noi abbiamo all'interno quindi della nostra area toccando quindi il pulsante che troviamo qui in basso e poter scegliere quindi la sua navigazione a poter quindi andare ad ordinarli per livello, lunghezza o vicinanza una volta trovata quindi la Root che ci interessa possiamo ottenere ulteriori informazioni come ad esempio il nome della Root, la lunghezza, la sua difficoltà e anche i tipi di Pokemon che probabilmente possiamo incontrare all'interno del nostro percorso una volta trovata la Root e pronti a partire bisogna poi premere sul tasto segui il punto di partenza della Root è contrassegnato quindi da una bandierina blu sopra il Pokemon Stop quando sei abbastanza vicino al punto di partenza apparirà il messaggio percorso cammino iniziato e la Root inizierà così automaticamente a tracciare il tuo progresso dopo aver avviato la Root segui il percorso segnato nella vista della mappa e cammina verso la bandierina rossa contrassegnata come invece punto di arrivo man mano che segui la Root il colore del percorso cambia in base al tuo progresso del suo completamento e se stai seguendo la Root correttamente il percorso grigio diventerà blu puoi anche catturare i Pokemon utilizzare tutte le funzioni del Pokemon Stop mentre ovviamente passeggi per la tua Root puoi anche mettere pausa il percorso magari se non puoi più proseguire o per una tua difficoltà però ricordati che se metti pausa poi per proseguire il tuo percorso dovrai necessariamente ritornare sul punto dove sei arrivato in precedenza per poter poi continuare il tuo percorso sulla tua Root se invece decidi di interrompere la Root corri fino in fondo alla schermata dettagli e poi premi sul tasto esci se esci perderai i progressi fatti finora e quindi se desideri semplicemente fermarti un po' dovresti scegliere pausa anziché esci la seconda funzione è quella di poter vedere come poter ottenere le cellule Zygard esplanando ad urto potresti incontrare le cellule Zygard la cellula Zygard apparirà come un effetto scintillante sulla mappa si è riscontrato che è più facile trovarla vicino al punto di arrivo ma attenzione se raggiungi il punto di arrivo senza toccarla non sarai in grado di ottenerla quindi toccala non appena lo trovi la terza parte è quella di poter farti vedere come poterci godere il nostro percorso su Pokemon Go senza muoverci da casa per prima cosa quindi andiamo ad aprire la nostra applicazione e ci assicuriamo di aver collegato il nostro iPhone quindi al nostro Mac una volta fatto ciò quindi premiamo sopra la voce Entra e poi andiamo a selezionare il nostro dispositivo come in questo caso andiamo a selezionare il nostro iPhone premiamo su Avanti e poi ci dirà di dover andare ad attivare la modalità sviluppatore non ci basterà quindi che andare nelle impostazioni del nostro iPhone scorrere in basso e andare sulla voce Privacy e Sicurezza in questo caso puoi scendere giù e trovare appunto la voce modalità sviluppatore come in questo caso andiamo quindi ad attivarla e poi bisogna poi andare a premere su Riavvia come in questo caso una volta che attendiamo che il nostro iPhone si vada a riavviare non ci basterà poi che andarlo nuovamente a sbloccare e una volta sbloccato praticamente andiamo poi ad attivare appunto la sua modalità premendo sul tasto e poi andando ad inserire il codice una volta quindi inserito il codice abbiamo attivo la nostra modalità di sviluppatore e quindi sul nostro Mac possiamo tranquillamente premere sulla voce Francesco in questo caso iPhone di Francesco come ci viene mostrato e quindi poter procedere alle sue funzionalità in questo caso posso andare quindi a cambiare vedete tutte quante quelle che sono le mie posizioni, giocalizzazioni come se tipo ad esempio io voglio giocalizzarmi non nella mia città ma bensì che ne so tipo ad esempio Milano posso quindi scrivere Milano qui in alto andare quindi sul punto e andare poi a premere sulla lente di ingrandimento e scegliere ad esempio Milano come in questo caso e quindi premiamo su comincia a modificare in questo caso dobbiamo assicurarci che sul nostro iPhone abbiamo tutte quante le nostre applicazioni chiuse perché altrimenti non funziona una volta chiuse tutte quante le applicazioni ci basterà poi premere sul tasto continua e poi attendere che dopo qualche secondo veniamo poi giocalizzati vedete qui a Milano in questo caso se tipo ad esempio noi andiamo ad aprire un'applicazione come ad esempio può essere Pokémon Go vediamo che non veniamo più giocalizzati nella nostra città ma bensì veniamo giocalizzati quindi in questo caso ad esempio a Milano come magari possiamo vedere in questo preciso istante poi possiamo andare ad accappare i Pokémon i Pokémon Center eccetera per poter quindi andare ad utilizzare il nostro Pokémon Go proprio come se noi stessimo in zona e poter quindi far funzionare il nostro Pokémon Go proprio come se noi stessimo in quel caso proprio sul posto senza muoverci da casa poi oltre a questo l'applicazione ci permetterà vedete di poter creare percorsi punti di destinazione come ad esempio posso creare ad esempio questo punto qui come poi poi posso andare a cliccare vedete su quest'altro punto su quest'altro punto ancora e premere su inizia a muoverti e come vedete in questo caso il nostro personaggio inizierà vedete a camminare in automatico oppure utilizzare la funzione joystick che troviamo qui per poterci vedete muovere all'interno del gioco e poter andare quindi ad indirizzare proprio come se noi stessimo camminando quello che ovviamente è il nostro personaggio all'interno del nostro gioco e poter quindi vedete sia orientare il senso e sia ovviamente proseguire per il nostro percorso come abbiamo potuto vedere grazie a questa fantastica applicazione di Enigo ci permetterà quindi di poter essere seduti tranquillamente sul salotto di casa nostra e poterci muovere in autonomia sul nostro Pokémon GO spero che questo video ti sia stato utile se ti fa piacere iscriviti al canale metti mi piace con la campanellina e ci vediamo al prossimo video ciao